Al Barça, come panchinario ripeto, il problema è che non credo che lui abbia detto le cose che ha detto Vietto, ma poi le cose che ha detto Nolito, perché probabilmente questa cosa nasce dalle dichiarazioni di Nolito, che appunto non dichiara a questo giornale britannico in questa lunga intervista che lui ha preferito andare al Manchester City perché ha la possibilità di giocare di più, mentre al Barça sarebbe tornato, lui ha usato questa definizione, sarebbe tornato a essere la quarta, quinta scelta dell'allenatore. Cosa che lui ha già vissuto, guarda caso, con Pep Guardiola, quando dal Barça, se posso fare un appunto? Certo, è vero, per me sarebbe stata anche quinta scelta, anche se bisogna dire che è meglio che non vengano giocatori che partano già con questa mentalità, cioè di non volere perché la squadra è una squadra, Nolito deve essere anche consapevole che è molto più scarso di Neymar, giustamente, ma anche di Messi e di Suarez, ma se non ti metti in un concetto di gruppo in cui l'obiettivo comune è il collettivo e devi vincere i trofei, e giocare per i tifosi, allora è meglio che vai al Manchester City, ma tranquillamente, anche Gameiro se non viene perché ha paura, ovvietto, Cocchino si sente di indossare la maglia, ma ben venga che non vengano, proprio facendo un gioco di parole, è meglio che non vengano proprio. No, perché poi ci sono problemi negli spogliatoi con queste persone, meglio è meglio che, capito, se crea un clima non positivo, grazie a questi problemi, allora è meglio che vengono altre persone che abbiano la disponibilità. Esattamente, 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 e quindi niente, il mercato ovviamente sarà, sarà insomma a dibattito poi quando entreremo con Giuseppe Deserio e con Francesco Bonacura, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà. Esattamente, e poi altro argomento d'attualità, un po' così, permettiamolo, un po' colorito, ma agli appassionati di PlayStation come me, abbastanza datati, che hanno sempre preferito per una questione culturale PES a FIFA, e quindi la Konami all'ASport, vedere finalmente che quest'anno il Barca è capeggiato con tutta la squadra su PES, mi riporterà probabilmente dopo tre anni a ricomprare PES e a rigiocare a PES. Questa è una cosa che ci ha dato piacere. Tutti abbiamo il bambino in un angolo del cuore. Io penso che comprerò entrambi quest'anno, perché ho visto che c'è stata una bella... Però, ecco, è vero che io ultimamente sono più un FIFARO, sono stato un PESARO... E sei passato? No, sono FIFARO, poi sono stato PESARO e poi sono tornato a FIFA, perché c'è stato il doppio sorpasso. Sì, esatto. C'è stato prima FIFA, poi sorpasso di PES, e poi però dopo il 2009, dopo il 2008, PES 2008, c'è stato il controsorpasso di FIFA. Da lì non l'ho più lasciato, anche se quest'anno ho visto le facce dei giocatori, il rendering incredibile sulla Konami, che ha fatto un lavorone. Bene, bene, questo ci fa... Basta che la giocabilità sia buona, insomma. Speriamo. E poi, nell'attualità, insomma, metteremo anche quello che saranno anche le discussioni, insomma, ci stiamo avvicinando al congresso delle pegne mondiali, delle pegne dove, insomma, noi abbiamo la fortuna, io avrò la fortuna per la prima volta di partecipare a rappresentare, insieme al nostro amico Francesco Lumbri, la pegna di Roma. Il 9 avremo l'incontro della Federazione Mondo e poi il 10 invece il congresso. Il congresso, vero e proprio, c'è una notizia, che la diamo subito in apertura, che proprio lunedì c'è stata una nuova approvazione di 5 nuove pegne da parte della giunta direttiva, di cui 4 sono estere e anche, insomma, di una certa... Alberto non lo sa, perché ancora non glielo ho detto. No, non me l'ha detto. una pegna dominicana caraibica del Santo Domingo, quindi una nuova pegna a Santo Domingo. Di Santo Domingo pure. Sì, della Repubblica Dominicana. La Repubblica Dominicana. Dove già c'è, e poi a Reggi di Forte, Alberto, non è a Rosario, ma è a Cordoba, in Argentina, perché è la seconda pegna argentina dopo l'elego a Buenos Aires. Sì, perché la prima è a Buenos Aires. Esattamente, quindi la pegna barzellonista de Cordoba. De Cordoba. Esattamente, e quindi, insomma, questo significa sempre di più, e c'è un pezzo poi nella conferenza stampa del Lucio che dice, accenna, poi lo vediamo, accenna alla mondialità dei tifosi del Barz. Allora, e poi, poi, insomma, quindi noi ci avviciniamo appunto al congresso e quindi anche per questo, insomma, oggi, la settimana scorsa, abbiamo ascoltato il presidente della pegna barzellonista di Genova, che salutiamo Massimo Lippi. Quando vado in Argentina, cioè la mia cugina che vive a Cordoba, così, le porterò una echarpa della pegna della grana di Roma. E quindi che proprio la settimana mi ha mandato un'email con il link di un articolo appunto quando lui diceva la settimana scorsa qual era il fatto dello spogliatoio, la voglia che ci aspettavamo, ci aspettiamo da questi giocatori, lui faceva accenno a rientro in anticipo dalle vacanze. E quindi questa sera avremo ospite invece il presidente della pegna Lombarda, che è Antimo De Salve, e quindi ascolteremo questa sera e poi, 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 insomma, ci abbiamo un nostro amico, un pegnista della pegna, un romano, un pegnista della pegna di Roma, ma già pegnista della pegna di Bergamo, che è Corrado Antoniozzi, Corrado, insomma, ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un grande culè, è stato a Berlino alla finale, e quindi, insomma, poi ci racconterà lui, insomma. Diciamo, uno da questa parte della linea gotica, un altro dell'altra parte della linea gotica. Come diceva Argenio. Eh, sì, esatto, poi lo salutiamo al professore Argenio, che sicuramente li sentiremo presto in questa radio. Allora, dicevamo, e quindi, insomma, questi saranno i nostri appuntamenti di questa sera. Per chiudere, ovviamente, c'è il nostro, il mitico, dottor Galletti da Bologna, Antonio Galletti, che ci fa le domande. Ci fa le domande, oltretutto fa anche delle considerazioni, perché, insomma, lui è un sostenitore di Cristian Teio. Vorrebbe che Teio rimanesse, lui dice, se tengono Munir possono anche tenere Teio. Il problema è che Lucio non vuole. Il problema è che Lucio non vuole, lui già mi ha detto a un privato che Lucio sbaglia, secondo lui, ma c'è un problema, che Teio vuole proprio andare via. Perché Teio, per esempio, era stato proposto di andare addirittura a Valencia, nell'operazione Gomez, sembrerebbe che lui proprio voglia per forza tornare in Italia, e in particolare a Firenze, però sembrerebbe che ci sia anche un interessamento del Milan, però non è molto chiara la cosa. Quindi il problema, caro Antonio Galletti, è che forse è proprio lui, è proprio il nostro Cristian Teio. Io credo che... no, Flavio, tu che ne pensi, se è già spesso l'altra volta, non è un giocatore... Penso che debba cercarci una nuova sistemazione. È molto drastico, Flavio proprio ha dato la... Anche se non è un... cioè, ovviamente, è un giocatore da Fiorentina, da questa società da Fiorentina, che può permettersi di terminare i giocatori pagandoli poco e con un budget di stipendi basso, quindi... Insomma, se il Porto non l'ha riscattato, come ha detto due puntate fa, mi sembra, ci sarà pure un motivo, quindi... È proprio questo il miglior? Inoltre, se una persona vuole andare via da un club, è perché lì non si sente al suo agio, se no tu non vuoi andare via. Su questo, su questo... Allora, allora, meglio che vada e vada dove... Ridatemi o le guerre! Uh, 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 le guerre! Uh, 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 le guerre! Il famoso... Il famoso... Che giocatore! Ragazzi! È certo! Fu espulso in un classico, stavo a far morire a me quella volta. Va bene! Ma tu, 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 per più che non sia un classico, quello che sia, quando di una partita mori lo stesso, così, che non è problema in quel senso. Come ero quel giorno, Alberto, a Camponuo con l'Atleti? Oh, no, no, io ricordo la volta, la volta, la volta quando si è giocata la partita qua all'Olimpico, che ha vinto il Barça. Sì, 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 all'Olimpico ha vinto il Barça. Ah, la finale! Come no? La finale del 2009! Esattamente. Roma è, ricordiamo, Roma è un santuario bartelonista. E io lo trovo, lo trovo a Massimiliano per caso, lui mi ha trovato a me, perché io sto sempre in quella zona, lì a Piazza Navona, nei dintorni, a via Tormilina, e lo vedo, lo vedo, va bene. Questo nel dopo partita, no? Siamo fatti a piedi, io e a Rick, il mio amico Rick, siamo fatti a piedi dallo Stadio Olimpico, usciti dal Stadio Olimpico, fino al centro di Roma. Perché non volevamo prendere, volevamo gustarci questa marea blaugrana che ha invaso la città e che abbiamo fatto a piedi. Vai avanti, racconta. Vabbè, guarda, io perché non c'avevo in quel momento una camicia di forza, se no se la mettevo, perché era proprio impassito, proprio fuori, 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 fuori. Insomma, vincere la Champions nella mia città è stata qualcosa di unico e vederla all'Olimpico, insomma, alzarsi in mezzo ai catavani e gridare le parolacce iropanesco a Cristiano, allo United e all'arbitro, anche se non c'era bisogno. Non è che io mi posso alzare, Flavio, al Gol Sur, al Camponò e urlare il romanesco e, diciamo, inveire contro l'arbitro. Tu mi hai fatto... Lo potrò fare in Castigliano e in Cavalano. Certo. Ma a Roma l'ho potrò fare il romanesco. Tu mi hai fatto ricordare a Barceleta. Ah, ecco. De quello che arriva allo stadio e comincia a urlar. Arbitro, disgraziato, maledetto, cornudo, bla bla bla. E allora dice un altro, dice, ma scusa, dice, manca messa ora per cominciare la partita. No, dice, io devo andare a lavorare, dice, adesso vado. Ecco, bene, bene, bene. Però Antonio Galletti ci dice, ma in mancanza di alternative in avanti che si fa? Perché poi, Flavio, il problema è che se non troviamo nessuno, se qui non vuole proprio nessuno, che facciamo? Ci sarà un lavoro per Teglio da fare, no? No, no, a parte gli scherzi, se non va via, è giusto che si mentalizzi e che prenda coscienza che deve... Ha un contratto stipendio da questo club, che mi sembra che anche gli ha dato tanto. Esatto. Quindi un po' di rispetto e giocasse, o perlomeno si faccia trovare pronto quando il Barça ne avrà bisogno. Punto, cioè, semplicemente c'è poco da dire. Se hai un lavoratore, hai un contratto buono e devi fare il tuo dovere per quello per cui sei pagato. Poi se... Sei un professionista. Se tu rifiuti di destinazioni, è una cosa tua, anzi io gli dico conviene e ti conviene rimanere a Barcellona, perché quest'anno andiamo a vincere. Quest'anno andiamo a vincere. Allora, prima di andare poi nella... Beh, no, ancora sono le 21.38. Io comincerei dal primo punto. Cioè, andiamo ad analizzare quello che ha detto Luiz Seriche nella conferenza stampa. Io vi leggo la sintesi, poi lo ascolteremo dal contributo che abbiamo preso da Barça TV. Allora, lui dice, non mi aspettavo l'addio di Dani Alves. Mi ha sorpreso, non solo a me, ma a tutto il club. Questo, sì, è Lucio. Dani è un giocatore speciale, positivo, simpatico, allegro, a volte anche troppo. E credo che ci mancherà moltissimo. È stato un professionista esemplare. La Juetus ha fatto un grande colpo. Io gli auguro solo il meglio. Questo, giustamente, andava riportato perché, insomma, si è lasciato molto andare. Poi, insomma, lo conosciamo l'Asturiano. Insomma, sono i nostri abruzzesi, quindi sono abbastanza duri. Duri, sì, esatto. No, gli Asturiani. Esatto. Quindi, quindi... Io gli conosco bene perché già da bambino, già ve un bar, lì, al angolo di